Un colloquio tra il Premier Renzi e il Governatore Rosario Crocetta a margine della riunione istituzionale a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Regioni. Il tutto con l'intermediazione di alcuni dirigenti del PD come Davide Faraone con lo scopo di aprire un canale permanente tra Roma e Palermo per affrontare diverse questioni che riguardano la Regione Siciliana a cominciare dagli aspetti economico-finanziari ma anche alcuni nodi politici. Crocetta è alle prese con il rinnovo della sua giunta di governo e sta trattando con gli alleati le modifiche alla composizione dell'esecutivo. Il clima è più disteso quando ci si confronta del resto e i problemi si risolvono dice Crocetta che però va oltre. Voglio coinvolgere in questa discussione sulla giunta anche i vertici nazionali dei partiti. Questa è la roadmap del governatore dopo i colloqui avuti ieri a Palermo con tutti gli alleati. La squadra non è ancora chiusa rimane l'ostacolo Udc. Ancora ferma su alcune posizioni politiche a cominciare dalla proporzionalità della rappresentanza in giunta dove entreranno anche DRS articolo 4. Crocetta certamente oggi vedrà anche il senatore Dalia per cercare un'intesa. La prima casella in ogni caso è quella del nuovo assessore all'economia che provenga da Roma, da Palermo, da qualsiasi altra parte, poco importa per Crocetta. È un ruolo tecnico, non basta essere un politico, servono competenze specifiche, dice il governatore che appare preoccupato. È una fase molto delicata, osserva. Ci sono in ballo il disegno di legge e pagamenti e la manovra bis e un vuoto in questo momento crea non pochi problemi. La delega all'economia dopo la formalizzazione delle dimissioni di Bianchi in questo momento è tornata nelle mani di Crocetta.